Affrontiamo una squadra che non ha una bella classifica e che giocherà in casa. Ogni partita adesso tutte le squadre daranno il massimo per i propri obiettivi. Anche noi siamo consapevoli di voler fare bene. Ho chiesto ai ragazzi di avere l'ambizione di provare a fare le partite che riusciamo a fare quando siamo in palla. Di non scadere nella presunzione, perché la presunzione potrebbe essere letale in ogni gara. Ma di pretendere tanto da noi stessi, di sapere che abbiamo le qualità, di avere la consapevolezza di avere delle qualità e di poter mettere in difficoltà gli avversari di turno, che sia una partita casalinga o che sia una partita all'esterno. Noi crediamo tanto in quello che stiamo facendo, come ho detto sempre. Alcune volte purtroppo non ci siamo riusciti a esprimere quello che vogliamo esprimere. Però io sono straconvinto che alla lunga la squadra che ha più la consapevolezza di quello che fa, che raggiunge un livello di gioco importante, per me ha più possibilità di riuscire a ottenere risultati positivi. E questa è la partita che noi vogliamo disputare domani, sapendo che si nascondono tante insidie in questa gara e vogliamo essere pronti a superarle. Noi purtroppo siamo l'esempio lampante che tutte le sfide sono complicate e in ogni sfida invece si può riuscire a ottenere il bottino pieno, affrontandole con le qualità e le caratteristiche giuste che noi domani vogliamo mettere in campo e dobbiamo mettere in campo, perché per poter puntare ad essere ambiziosi, ambiziosi nel quotidiano, giorno dopo giorno e partita dopo partita, bisogna avere la consapevolezza delle proprie qualità, bisogna essere consapevoli dei propri limiti, ma sapere che non si può prescindere dall'atteggiamento di squadra unito e compatto che fa sì che poi alla fine la squadra riesco a ottenere risultati positivi. Purtroppo abbiamo ancora diversi ragazzi fuori, a cui si aggiunge anche Mitch Bascia che ha avuto questo fastidio e non è riuscito a recuperarlo fino ad oggi. Allora non mi è sembrato il caso di provare fino a domani, perché domani abbiamo la partita e poi a distanza di pochi giorni ne avremo un'altra e cercheremo di recuperarla al meglio per la prossima. Rispetto alla scorsa gara, ovviamente oltre a Economus, Alzano, Morleo, Diachite, Brienz e Floro, alcuni di questi sono sulla via del recupero e mi auguro di poterli ritrovare quanto prima, rientra in gruppo Gionberg che è arrivato ieri pomeriggio con noi dopo un lungo viaggio e domani ci raggiunge direttamente in albergo Balkovec, quindi da capire in che condizioni arriverà. Come ho detto la volta scorsa, abbiamo tanti ragazzi, purtroppo non siamo tutti a disposizione, però sono straconvinto che quelli che sono a disposizione hanno tutte le qualità per poter fare una grande partita e è quello che sentiamo il dovere di voler fare. Noi tutti quanti abbiamo alternato, i ragazzi hanno alternato delle prestazioni positive e negative, ma durante la settimana nessuno ho mai visto bloccato, a parte quando si sono fermati per i vari acciacchi, quindi per un attaccante è sempre piacevole segnare, loro sono tornati al gol e mi auguro che possano continuare sulla strada che hanno intrapreso. Oggi sono concentratissimo sulla partita di domani perché sarà tanto difficile quanto importante e ovviamente le partite stanno scorrendo, quindi non ne mancano tantissime e come ci siamo detti, tra un pochino arriva il mese in cui tanto tempo fa sarebbe stato il mese della resa dei conti e di capire di che pasta eravamo fatti, quindi sicuramente stanno terminando le partite per poterlo capire. Quando riesci ad essere nella partita, perché noi siamo stati bravi a entrare subito in gara dall'inizio, abbiamo provato ad andare ad attaccare gli avversari, delle volte sono stati bravi a giocare e quindi non siamo stati in grado di farlo e quando non ci siamo riusciti ci siamo abbassati per difenderci. Quando c'è un'unità di intenti all'interno della squadra diventa più facile esprimere le proprie qualità e questo noi lo sappiamo e proveremo a ripeterlo anche domani perché sarà determinante avere questa compattezza e questa unione. Domani giocheranno? Lo so ancora perché non abbiamo tanti ragazzi a disposizione, però quelli che abbiamo sono tutti in grado di poter fare una grandissima partita, compreso Cristian. E su Cristian, come per altri ragazzi che ho sempre fatto, posso che spendere parole positive perché conosciamo benissimo quelle che sono le sue enormi qualità, però siamo un gruppo di giocatori composto da tanti ragazzi di qualità e quindi di volta in volta a turno si può essere protagonisti, si deve essere protagonisti e sono straconvinto che Cristian sarà utilissimo alla squadra come è sempre stato utile in quest'annata. Grazie.